I giovani non hanno dialettica. Avete sentito? Se spesso in maniera così bella, simpatica e grittosa, la fatti come niente. E' quello che volevo dire è che i giovani hanno tanta di quella carica dentro e se vogliono la mettono in pratica, veramente sconvolgono tutto. Quindi vi diciamo grazie fin d'ora. E adesso? L'insegnante? Prego, sto per lei allora. Prego. Buongiorno, sono Zorrisi, insegnante di informatica di questi ragazzi. Volevo ringraziare il signor Cova che ci ha permesso di affrontare questa iniziativa che è una bella iniziativa. Già si capiva dall'inizio che sarebbe stata bella. E devo dire che venendo a lavorare i ragazzi, soprattutto come diceva qui Aurelio, e durante la fase di formazione con i rappresentanti dei circoli, è stato un momento molto bello. Per noi insegnanti che vedevamo questi ragazzi lavorare e dare istruzione ai signori di come andare a insegnare gli articoli, è stato un momento veramente bello che secondo me ha lasciato in ciascuno dei ragazzi una cosa bella, una crescita che servirà a loro per il futuro. Quindi spero che in futuro ci possano essere altre, anche altre collaborazioni, e che questa collaborazione possa andare avanti. Quindi ringrazio Zorcova, ringrazio tutti per la possibilità. Grazie. Permettete un attimo, ho fatto una piccola pergamena per ricordo di questa veramente collaborazione che abbiamo avuto con Viti, che adesso è la quarta, prima della terza, abbiamo incominciato a ringraziare il professor Tonisi, che oggi non è presente, e anche la preside, prima era la mia preside, poi adesso la donna, la donna, Zoller. Ringrazio loro che hanno permesso a noi di essere sostenuti da questi ragazzi e soprattutto ai professori che ci sono dedicati con noi a gestire questa tecnologia, come dicevo prima, che fa parte dell'attuale pizza che ci fa. E questo mi ringrazio a personale, veramente ci sarà di una continuità, perché questo che dobbiamo sempre allarcare a altre cazzoni che magari vogliono intraprendere questa tecnologia, abbiamo fatto una piccola pergamena, vi ricordo che questa... all'Istituto Tecnico-Tecnologico, con l'Alti.3, classe 4, che hanno messo me, informatica B, in coordinamento circoli per i gradi e gli anziani della provincia di Trello, e tutti i soci esprimono il loro altissimo ringraziamento per la creatività e collaborazione alla realizzazione della nostra vita, del nostro sito. Questo è la virtualizzazione.